Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro. In questo video ti presenteremo le caratteristiche principali del trinciaerba a scoppio EFCO. Ti guideremo attraverso il montaggio, illustrandoti come assemblarlo facilmente, in autonomia quando lo riceverai a casa. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Il trinciaerba a scoppio EFCO è progettato per lavorare in modo efficace anche su terreni sfidanti, superando vegetazione densa e robusta. Questo lo rende uno strumento indispensabile per il settore agricolo e di giardinaggio. Una delle principali qualità del trinciaerba è la sua struttura robusta, realizzata in acciaio. Questo materiale è scelto per garantire resistenza e longevità, caratteristiche fondamentali per un utilizzo intensivo e professionale. L'impugnatura ergonomica e le ruote di grande diametro assicurano una manovrabilità ottimale e stabilità su terreni irregolari. La lama mulking consente di triturare l'erba molto finemente, permettendo così che il processo di decomposizione della stessa venga accelerato al massimo, lasciando un aspetto molto pulito e bello all'appezzamento, eliminando inoltre i rischi di intasamento del piatto. Ed ora, ecco la guida di montaggio del prodotto. Visita il sito AgriEuro e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.